Come si fa la gruppa spagnolese? Tu lo sovi? Ma passami a studiato Vieni che Grazie Vorrei condividere con voi i nostri sentimenti e il nostro stato d'animo Siamo tutti affronti dal vento doloroso avvenuto due giorni fa a Istanbul Per San Ospeter La data ai primi popolari incontrerà lo spettatore italiano Vogliamo ringraziare tutti voi per essere qui con noi stasera